E' stato anche alla guida del Consorzio Industriale della provincia di Catanzaro, quindi ha tutta la competenza per aiutarci ad analizzare velocemente i dati del rapporto Svimez, la cui lettura, come sempre, è controversa. Che ci dicono questi dati? Questi dati ci indicano che la Calabria è in grande difficoltà, che le imprese sono in grande difficoltà anche nel rapporto con le banche, perché la difficoltà più importante è la capitalizzazione, e cioè rafforzare la struttura finanziaria di un'impresa. Spesso in Calabria, al di là di quello che si possa pensare, ci sono delle buone idee imprenditoriali, anzi alcune volte delle idee geniali dal punto di vista imprenditoriale, però dal punto di vista finanziario c'è una grande fragilità e quindi le imprese non hanno una struttura finanziaria. In questo senso è necessario che ci siano interventi o di questo tipo o di carattere strettamente finanziario. C'è per esempio la finanziaria della Regione Calabria, la Fincalabra, che potrebbe intervenire proprio perché è deputata a rafforzare la struttura finanziaria delle imprese. Il problema è soprattutto lì, il problema naturalmente è anche legato alla capacità delle esportazioni e alla capacità della produzione industriale. La devo fermare purtroppo, ma la ringrazio moltissimo per il contributo che ci ha dato. Quindi dopo questa pagina ricca che abbiamo dedicato alle conoscenze...